Oh no, questo è troppo lottano, meglio tornare lì dietro Allora Ok Prendiamo il gelatine Eh, sei come la Barry Ma, ma è sattato qui Ma come è possibile? Non so dove si trova le scale Non so dove si trova la tazza, sembra un po' molto chic Ah, sta arrivando le scale Grazie portami, eh Ecco di qua, eh Ah, ok Questa l'abbiamo visto quel sangue Ok, siamo qua nel bagno delle menina contenta, eh Adesso andiamo E vediamo che cosa dì Non mi sento niente, il mio gioco è il bagno delle ragazze Vorrei che la gente che mettesse di stubbare quell'ente Anch'io ho i sentimenti, sapete che anche io sono morta? Davvero con l'ente non trovate? Cosa è questo torri porciano in trione? Sarà la posizione succo Ci sarà ancora dietro l'elda Ma prima la posizione deve essere veramente geligia Ci serve il pazzetto di Golgill per trovare la posizione Che schifo Non farò trovare Golgill E di solito Quest'ora è nascosto i ristretti in anni Non farai l'altro che fare il tracicipo E trovare il pezzo di Golgill L'ho portato qui Buona fortuna a Barry Oh grazie Arron Scusate No non è Vabbè non lo sape No Oh no No se lo mangio è Cosa devo fare qua a prendere? Forse ci vediamo un'altra volta? O no? No Non ancora C'è sì le tracce Meglio non prenderla Ma cercheranno di mangiare A prenderla Oh ecco di Goid Devo seguirlo Dov'e credere di andarsene Ok caramente in corso Ok prendiamolo Seguiamo che Goid Quel serpervete Dell'amico di Drago Ma poi ce l'aveva anche da l'altro Ci chiama Traller Del serpete Dell'amico di Magafo E dell'altro Mancato Ha ha Che puzza È un duro di merda Stai parlando un'altra cosa Però sprighiamo Questa puzza Mi da perdere l'energia Scusate ma sta parlando un'altra cosa Non lo dovete copare Vabbè Forse Prendi Oh no Ci è mancato poco Tonnazione Dio cani Tu lo fai perché vuoi bene a quella persona E questa persona lo percepisce Lo percepisce Lo percepisce Senti Invece tuo sorella quando mi fa un regalo Io non lo percepisco Questo Dici E questa è la realtà Tu sei diverso dalla tua famiglia Ma quel mondo lì è difficile che trovi gente E' un po' La cosa è la seconda Lui ha presenziato Ma è un po' Per me Ma è un po' È un po' E un po' Mi piace Ma è un po' Non è un po' Non è un po' Non è un po' Non è un po' Infatti io vorrei Mi siconoscere Perché Adesso chiediamo Ma ma Io ho bisogno A questo momento Di 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 crescere spiritualmente soprattutto ma crescere in conoscenza io voglio incontrare gente di cui posso imparare non trovare gente di scuola di caessa cioè gente che non ti dà un caso per dire io ho capito una cosa che con quanto potrei costruire un bel rapporto allora non funziona quello non funziona è rimasto bloccato va bene ma cosa hai capito di questo soggetto sono caduto non ci avevo pensato ma non è una persona non va c'è una persona è vero che anche lui in questo mondo è ogni tanto anche io ho visto ma con quella ecco lo ecco lo ecco il libro di sapattaccio oh no un racco la tattaruga non ho mai vista roba del genere ecco lasciamo fuori eh vediamo aspetta aspetta potrà cadere anche lui vediamo dove potrebbe essere una trap c'è un uomo di nuovo che è grande carignoso carignoso non è male che il ruolo per le metterie però non è fatto per le metterie per le metterie Grazie.